Allora, per portare un punto da qua, secondo me, sarebbe stato un exploit, secondo me. Comunque, è vero, questi ultimi dieci minuti, paghiamo gli errori che abbiamo fatto, che faremo anche ancora errori durante la stagione, non è quello il discorso, però diciamo che teniamo il positivo, comunque abbiamo tenuto fino all'84esimo, che contro una squadra come l'Inter è una cosa positiva, quindi teniamo le cose positive, perché per la salvezza ci vuole tante cose positive. Facciamo le partite, lasciamo le cose negative dietro, lavoriamo e adesso abbiamo due partite a casa che, secondo me, dobbiamo prendere qualche punto. Sì, però era quella, diciamo, l'idea prima di venire a San Siro, comunque le squadre sono giù, vengono qua, si bloccano dietro, ecco l'idea che abbiamo adesso, e secondo me è la giusta idea, la giusta strada. Dopo, piano piano, andremo a, diciamo, a giocare a casa, tutto, cominciamo a, diciamo, a proponere un altro gioco, però adesso è l'unica soluzione per fare i punti. Quindi siamo venuti qua, abbiamo cercato di fare i punti, ne siamo riusciti e pazienza, ne vediamo le prossime. Sì, sì, anche con le due partite che abbiamo fatto, i punti, i quattro punti, adesso c'è anche, siamo qua a quattro o cinque punti dell'Empoli, comunque con calma, però adesso è molto importante a casa cercare di fare i punti, che sia della bella maniera o la brutta maniera, qualche punti dobbiamo fare.